Allora, benvenute e benvenuti. Ultimo incontro del ciclo promosso da Forum Droghe, su droghe, miti, fatti e misfatti. Questo incontro è dedicato alle... Non si sente? Si sente? Non so, vabbè, l'importante è che si sente. Anche Radio Radicale, che ringraziamo di nuovo, sente, per cui procedo. Questo incontro è dedicato alle politiche sulla canapa, quindi ragioneremo di legalizzazione, ma di molte anche altre cose inerenti a questo tema. Io dico solo che saranno con noi, sono con noi, Rita Rapisarda, che è il giornalista che si è molto occupato di questi temi, Frankie Dagata e Leonardo Fiorentini, che poi Rita presenterà. Doveva essere con noi anche Riccardo Maggi, che sapete è il parlamentare che forse più si è occupato e si occupa di questi temi. Lei si scusa, non ci può essere, ma ci ha inviato un intervento video, quindi in un certo modo è presente, ma ci ha dato uno scenario tale per cui in questi giorni al Parlamento sono tutti fuori di testa, perché ce n'è una diversa ogni giorno e quindi lo capiamo, perché deve presidiare quella situazione. Cedo il microfono, grazie. Si sente? Ok, grazie. Grazie Susanna e grazie anche a Leo per avermi voluto qui. Inizio presentando Leonardo Fiorentini, che è autore del libro Onda Verde, antiproibizionista, ecologista, amico della non violenza, si occupa di politiche sulle droghe sin dalla nascita di fuorilogo.it, di cui è diventato diventatore nel 2014, è tra i curatori del libro Bianco sulle droghe, che esce ogni anno, che non solo è utile a noi giornalisti, perché è veramente un pozzo di fonti e conoscenza, e che fa sempre ogni anno il punto sulle politiche, sulle sostanze in Italia. È segretario nazionale di Forum Droghe, che rappresenta all'ONU con status consultivo e socio fondatore della Società della Ragione. Soprattutto questo aspetto del segretario nazionale Forum Droghe, che poi è anche rappresentante all'ONU, domani partirà proprio per andare a Vienna, dove si sta consumando, almeno per quanto riguarda l'Italia, un proibizionismo più becero, ma penso che ne parleremo. Alla mia sinistra c'è Frankie Dagata, psicologo, ha un passato d'attivista per la cannabis, con più di 15 anni di azione attraverso un collettivo, un network antiproibizionista, che si occupava di promuovere la riduzione del danno e le politiche di regolamentazione legale delle sostanze. Attualmente fa parte dei COBS, coordinamento operatori bassa soia del Piemonte, e della rete ITARD, rete italiana, riduzione del danno. Allora, appunto, dicevamo, partirei dal libro, e vorrei dire a Leo, visto che ancora non glielo ho detto, perché è importante questo libro, perché mette in fila tutti i motivi per cui oggi un discorso sulle droghe, e in particolare sulla cannabis, che è quello di cui si occupa il libro, è difficile, molto ideologico, legato alle credenze, più che agli studi e ai dati, ma anche a ciò che poi è la realtà dei fatti che riguarda le persone che usano le droghe. L'ideologia, ne abbiamo avuto prova oggi per quanto riguardano le parole di Alfredo Mantovano a Vienna, che è appunto il sottosegretario del Consiglio della Presidente Meloni, che ha sostanzialmente detto che le droghe sono tutte uguali, le droghe pesanti, le droghe leggere non esistono, ma le droghe sono tutte uguali, e che non bisogna legalizzare niente. Purtroppo il discorso legato alle droghe ha aspetti politici, economici, di lotta alle mafie, ma anche di repressione e di controllo proprio delle persone, sia confini diciamo appunto prettamente politici, ma anche razziali. E proprio su questo Onda Verde ci fa capire come la storia inizia da molto lontano, e arriva fino ad oggi parlandoci dei modelli attuali e di come questi a che punto sono e come possono essere anche migliorati. C'è anche un capitolo che Franco Corleone definisce nella prefazione il capitolo che provoca maggiore depressione, che è quello sull'Italia, di cui penso parleremo anche forse grazie a Riccardo, al video di Riccardo. Ecco, vorrei iniziare proprio con un virgolettato che è presente nel libro e che ci fa capire un po' che ci fa capire un po' anche come le politiche, le convenzioni, che poi sono quelle che ancora oggi giustificano e bloccano alcune leggi, siano nate e cresciute, spesso attraverso delle vere e proprie, quelle che noi chiamiamo oggi fake news. Il virgolettato è di un certo Hanslinger, che Leo sicuramente ci presenterà, che dice che siamo in America, siamo intorno agli anni 30, dopo il proibizionismo alcolico e la fine del proibizionismo alcolico. Dice, la maggior parte dei fumatori di marijuana sono negri, ispanici, filippini, musicisti, jazz e artisti. La loro musica satanica è guidata dalla marijuana e il fumare marijuana da parte delle donne bianche le fa desiderare di cercare rapporti sessuali con i negri, artisti e altri. E' una droga che causa follia, criminalità e morte. La droga che provoca la maggior parte della violenza della storia umana. Questo credo che dia bene il segno di come le politiche più recenti sulla cannabis, quelle dell'ultimo secolo, mettiamola così, siano sostanzialmente fondate su motivazioni razziali. e siano non il primo caso in cui le politiche che hanno messo fuori legge delle sostanze, dei comportamenti da parte di alcuni gruppi sociali, gruppi etnici o semplicemente persone e margini, siano stati strumento del potere per da un lato generare paura, dall'altro reprimere quel settore della società e infine ottenerne un vantaggio politico dal punto di vista appunto in molti casi anche elettorale. Non è il primo caso perché se pensiamo non tanto alle guerre dell'oppio che avevano sostanzialmente una motivazione economica ma alle prime leggi di proibizione dell'oppio negli Stati Uniti lì c'è proprio l'andare a colpire una comunità, quella cinese, che era immigrata negli Stati Uniti per aiutare a costruire il lontano west, le ferrovie eccetera, che una volta rimasta come la comunità negli Stati Uniti abituata come tradizione in patria a anche lenire i dolori della fatica di dover costruire centinaia di chilometri di ferrovie nel deserto del west americano era, usava, oppio per appunto svagarsi, mettiamola così. Quella comunità una volta che non è più utile per quello che serve al sistema, in quel caso al sistema economico statunitense e anzi diviene in qualche modo concorrente della mano d'opera locale, viene colpita e viene colpita tramite la proibizione. Così succede per la cannabis, in quel caso siamo dopo la crisi del 29, è in particolare da un lato la comunità ispanica, tanto che Haslinger ci tiene a promuovere il termine marijuana, che è un po' più spegnoleggiante e ne connota la provenienza della sostanza dal Messico, dall'altro la comunità nera, comunque i famosi gestisti, e quindi la musica del diavolo, la musica diabolica è quasi prodotta dalla pianta diabolica, che è la cannabis, che è la pianta che più genera crimine e morti nel mondo. Nel mondo, nel mondo di allora, ovviamente non era vero allora, credo che al tempo i consumatori di cannabis negli Stati Uniti non fossero sopra i 100.000, non c'era nessun allarme rispetto all'uso di cannabis, c'era invece appunto, poi magari Frenchi riprenderà questo passaggio, un problema di mantenere una macchina proibizionista che aveva appena perso il soggetto funzionale, che era il proibizionismo sull'alcol. E questa strumentalità è continuata negli anni, notare che è proprio Haslinger che porta la questione cannabis e spinge le Nazioni Unite a avere una convenzione unica, prima c'era una convenzione sull'oppio, una convenzione sulla coca, se mi ricordo bene, della cannabis non si era parlato incidentalmente nelle convenzioni sull'oppio, ma tutti avevano più o meno snobbato questa emergenza perché tale emergenza non era. e quindi nel 61 la cannabis viene inserita fra le piante e foglie in fiorescenze inserite non solo nella tabella 1, cioè delle sostanze pericolose in cui ci sono tutte coca, cocaina, eroina, la convenzione del 61 si occupa esclusivamente delle droghe di origine vegetale. ma la inserisce anche nella tabella 4, disconoscendo tutta la storia della medicina non solo orientale ma anche europea, era nella farmacopea tedesca, lo cito ormai sempre, c'è un volume di farmacopea ferrarese con indicata la cannabis, eppure viene inserita fra le sostanze più pericolose e senza alcuna funzione terapeutica. Questo viene fatto in assenza di alcuna revisione della letteratura scientifica sulla sostanza e sull'onda di una spinta degli Stati Uniti, assecondate da vari interventi dell'Olanda, dell'Interpol, che affermano, si legge negli atti di quella sessione, di quelle sessioni ricostruiti da Arnau nel suo Droga e Potere, appunto rivendicando la criminogenità della sostanza in sé, ovvero è la cannabis che crea il crimine. Oggi noi sappiamo che invece sono le leggi che sono criminogene, ma ci sono avuti 60 anni forse per riuscire a introdurre realmente questo nel dibattito internazionale. Mi sono dimenticato prima di dire una cosa che però è abbastanza significativa perché fa capire come già allora il dibattito sulla cannabis negli anni 30 fosse fuori dalla vita delle persone e come fosse stato usato strumentalmente è addirittura Billy Holiday che nella sua autobiografia ricorda di come lei, bambina, 13enne, consumava cannabis proprio nel periodo in cui insegnava la madre, che credo avesse 25 anni, era poco più grande di lei, a leggere e scrivere. La madre preoccupata dalle notizie che ascoltava in radio, che leggeva sui giornali rispetto alla campagna di Aslinger di stampa contro la cannabis e lei che le rispondeva, ma guarda mamma, sono io, sono sempre io, sono cambiata? No, non sono cambiata. Poi purtroppo Billy Holiday avrà una vita molto complicata, è un rapporto molto complicato con altre sostanze però resta appunto da sottolineare due cose la prima è che già negli anni 30 si cominciava a fumare a 13 anni per cui non è vero che si comincia a fumare sempre a prima la seconda è che quella campagna fu una campagna decisiva nel costruire una narrazione rispetto a una sostanza e rispetto a una comunità che devia rispetto alla società e costruire quindi la famosa impresa morale che tanti sociologi poi riusciranno a definire un po' meglio un'impresa morale che permette al Mantovano di turno di dire che le droghe sono tutte uguali ci aveva già provato nel 2006 è Alfredo Mantovano che ha scritto la Fini Giovanardi non sono altri, per cui stiamo parlando di quella persona ovvero di colui che ha di fatto assimilato tutte le sostanze in una legge punendole allo stesso modo e fra l'altro unendo due mercati che prima invece erano abbastanza rigidamente divisi cioè quello della cannabis con quello di tutte le altre sostanze e gli fa dire che libertà e responsabilità non possono essere assoluti ma in sostanza è lo Stato che deve indicare fin dove questa libertà può arrivare e giudicare il livello di responsabilità della persona che usa sostanze che ovviamente usando le sostanze non ha più né libertà né responsabilità secondo Mantovano perché appunto la sostanza è un mostro e quindi ti cambia ti permette anche di fare atti criminali su questo volevo aggiungere che parte della campagna che c'è stata in America contro la cannabis è stata decisamente stabilita a tavolino e che ha riguardato purtroppo anche l'informazione quando mass media e potere vanno nella stessa parte ecco c'è qualcosa che non va quindi all'epoca il buro che si occupava della narcotici fece sostanzialmente costruire a tavolino tutta una serie di articoli in cui si descrivevano reati gravissimi commessi sotto l'uso di cannabis su questo non si risparmiò neanche il cinema c'è proprio un film che fece molto clamore perché raccontava appunto la vita sempre più degenerata di questi protagonisti i giovani protagonisti che iniziavano a drogarsi di cannabis e poi alla fine commettevano una serie di omicidi fino anche a suicidarsi insomma una vera e propria propaganda contro la cannabis che purtroppo ancora oggi cioè si mantiene viva ancora oggi cioè una delle fake news più usate anche in Parlamento durante la discussione per il referendum è stato che la cannabis aumenta gli incidenti stradali quando noi stabbiamo benissimo che non è così anche perché non è neanche credo la decima causa degli incidenti stradali da cannabis quindi purtroppo appunto come dicevo prima questo libro riassume e fa capire bene perché ancora oggi siamo dove siamo e insomma la propaganda è dura a morire mi ricollego rispetto a questo perché rispetto alla cannabis, incidenti in realtà stradale, alcol insomma è stato anche fatto uno spot che è uno degli spot più falsi che esistono perché se andiamo a vedere i dati gli incidenti stradali sono provocati per la maggior parte da distrazioni da altro che non da uso di alcol tantomeno di sostanze insomma le percentuali se andiamo a vedere legate all'uso di sostanze o di alcol sono davvero piccole però nonostante vengono fatti spot che incidono proprio su quel tema questo spot penso che lo conosciamo tutti e tutti insomma gira in televisione ovunque a tutti gli orari no, mi ricollego un poco al libro di Leo perché secondo me è un buon lavoro nel senso che è un lavoro, una ricostruzione storico scientifica un poco dei paradigmi della proibizione e nello specifico della cannabis io penso che ormai insomma tutti gli inganni del proibizionismo sono svelati il proibizionismo è ovviamente un disegno politico nasce con l'alcol sotto pressione della società della temperanza che era una lobby chiaramente religiosa che voleva imporre politicamente i propri standard morali era un bacino di voti quindi portavano voti e quindi avevano influenze e negli anni 20 ci si inventò questa legge proibizionista che fu disastrosa per l'America non solo per le casse dello Stato perché si trasferì quella che era una tassazione dell'alcol la si trasferì nelle tasche delle mafie il fatto che nascessero delle floride mafie legate all'alcol è una conseguenza che ci portiamo dietro ancora adesso insomma queste mafie adesso sono tuttora in corso in qualche modo determinano anche le politiche l'economia insomma e tutto quindi sono una sorta di cancro che ovviamente ci ritroviamo grazie anche a queste scelte produsse enormi danni anche alla salute perché chiaramente l'alcol non venne sradicato venne proibito ma non venne impedito quindi insomma alcol di scarsa qualità ne giravano insomma di ogni sorta fino a che ci si rese conto che insomma questa legge era assurda e quindi venne cancellata però come diceva bene Leo rimase tutto un apparato proibizionista che andava reinvestito e quindi Hasling e altri personaggi si inventarono la proibizione prima della canapa ovviamente per motivazioni più d'altro economiche cioè il fatto di proibire la canapa a un popolo che non la usava era una cosa assurda perché negli Stati Uniti la usavano soltanto gli immigrati messicani qualche nero insomma però era talmente bassa la percentuale di persone che usava canapa che insomma non si capiva bene perché di questa legge vent'anni dopo ci fu invece trent'anni dopo la proibizione della cannabis che fu ad opera di Nixon e che configurò un cambiamento un po' di paradigma ci si rese conto che la proibizione delle droghe poteva essere usata come strumento di controllo sociale e di oppressione quindi tutti quei movimenti di contestazione studenteschi contro la guerra che non potevano essere chiaramente repressi direttamente lo venivano indirettamente attaccando quelli che erano i loro stili di vita fondamentalmente quindi fumare cannabis era una di queste variabili che queste persone utilizzavano e quindi mettere delle leggi repressive nei confronti della cannabis voleva dire anche controllare periodicamente insomma anche gestire questi movimenti di contestazione peccato che però poi nel momento in cui si attuano leggi e politiche sbagliate le repercussioni sono immense e quindi è successo che chiaramente le narcomafie si sono espanse ancora di più diventando dei veri e propri cartelli che poi hanno prodotto tutta una serie di scempi tra cui lo sfruttamento delle popolazioni produttrici lo sfruttamento anche di persone fragili nella logica dello spaccio e delle persone che poi ovviamente sono sostituibili quindi una logica che punitiva che va a punire gli anelli deboli della catena non va sicuramente a prendere i vertici delle organizzazioni che poi sono in grado anche di pagare apparati dello Stato insomma di questo ci si è reso benissimo conto insomma attualmente esiste un'associazione che si chiama Leap in Inghilterra che è fatta da diciamo poliziotti pentiti che si sono resi conto che ovviamente il paradigma della proibizione quando si va a mischiare con le mafie e dinamiche di corruzione non serve proprio a nulla e loro si sono posti come entità antiproibizionista quindi consigliano agli stati di cambiare ovviamente il paradigma di non insistere più su repressione e su leggi che non possono poi essere mandate avanti come ci si rende conto benissimo che laddove le mafie non ci sono intervengono apparati dello Stato anche lì famosi in Italia abbiamo avuto esempi di corruzione di altri pubblici ufficiali ad esempio il generale Ganser che si salvò in Cassazione ma anche recentemente i carabinieri di Piacenza che avevano sostituito proprio la mafia nella gestione del territorio c'erano loro che decidevano chi doveva spacciare che cosa e a che condizioni insomma quindi questo insomma ci fa rendere bene l'idea che la proibizione apre un campo che e sì è vero che è dominato dalle mafie ma che può essere preso anche benissimo dallo Stato e da parte dello Stato quindi insomma questo cos'è che lo strumento come diceva Bene Leo di cui il proibizionismo si è dotato per imporre le proibizioni sono state le convenzioni dell'ONU quindi le convenzioni dell'ONU nascono nel 1961 e venivano ratificate ogni dieci anni promettendo alla popolazione che le droghe sarebbero state tutte le piante che producevano sostanze sradicate che la droga sarebbe scomparsa nel giro di pochi anni tutto questo non è vero oggi ci ritroviamo in un sistema che produce se vogliamo anche più di dieci droghe al giorno nuove dove la domanda sicuramente è cresciuta così come anche l'offerta addirittura i canali di offerta di droghe si sono differenziati quindi non ci sono più le piazze di spaccio ma c'è anche il web che vende tantissime sostanze questo è un argomento secondo me che dovremmo anche provare a trattare e in questo la cannabis che ruolo ha la cannabis ha un ruolo centrale nel senso rispetto alla proibizione perché è la sostanza sicuramente prevalente nell'uso maggiormente diffusa difficilmente occultabile che ha una certa odore quindi insomma è anche difficile da imboscare quindi è chiaro che è diventata la sostanza emblema un poco della proibizione anche in un paradigma ideologico secondo me la destra ce l'ha proprio con la cannabis perché lo stile di vita insomma che va a rappresentare sicuramente non è caro ai governanti soprattutto adesso di destra quindi questo è sicuramente un dato da prendere in considerazione la Fini Giovanardi che abbiamo avuto come legge è stata da questo punto di vista deleteria perché ha equiparato le pene tra cannabis e altre sostanze e quindi cosa ha prodotto ha prodotto la triste dinamica per cui uno spacciatore di cannabis nel momento in cui aveva la possibilità di spacciare una sostanza più remunerativa e che sicuramente magari più accultabile che gli poteva procurare più soldi la spacciava quindi la diffusione anche alla faccia della teoria della porta d'ingresso che ovviamente non è assolutamente documentabile se ci fosse davvero vera questa teoria dovremmo avere noi dei consumatori di cannabis al pari dei consumatori di cocaina e roina e questo non è assolutamente vero il consumo di cannabis rimane tuttora prevalente poi ovviamente ci sono stati tutti una serie di effetti collaterali della proibizione il primo sicuramente sono le sanzioni amministrative nel 93 in Italia c'è un referendum che decretò come diciamo legale l'uso di sostanze per tutta risposta si costruì un apparato di sanzioni amministrative che tante volte le sanzioni amministrative sono peggio dell'inquadramento della legge penale perché vanno a toccare libertà fondamentali come ad esempio avere una patente poter lavorare o poter espatriare insomma quindi sono tutte insomma delle dinamiche che limitano e rovinano insomma un po' la vita a chi viene beccato con una sostanza addirittura un po' di tempo fa noi avevamo uno sportello che seguivamo insomma le persone che usavano sostanze tante volte era molto peggio avere un articolo 75 dell'avere un articolo 73 perché nell'articolo 73 non ti bloccavano la patente cosa che invece nell'articolo 75 adesso viene perché viene data comunicazione in automatico alla motorizzazione quindi tu ti becchi anche se non stai guidando ti becchi tranquillamente un mese di sospensione della patente ma il previsionismo si riflette secondo me anche in ambito preventivo allora la barbara pratica delle perquisizioni nelle scuole questo è uno scempio una cosa che avviene tuttora avviene sempre di più e cosa produce produce sicuramente dei danni a delle persone che sono studenti che sono fragili e che vengono beccati davanti a tutti i loro compagni gli insegnanti e tutto quindi questo produce ovviamente dinamiche di anche stigma e mi ricordo un ragazzo qualche anno fa a Genova che si è buttato al balcone proprio perché non reggeva insomma la vergogna di essere stato di essere stato vittima di una perquisizione in casa quindi la madre chiamò sì la madre chiamò la polizia e lui anche lì pensò in quel caso tanto quanto è marcia la lettura sulle sostanze che ci volesse la mano la mano comunque della polizia quindi del controllo e non dei servizi magari se aveva qualche dubbio a chi rivolgersi e questo fa il proibizionismo perché se ti dice che una cosa fa male fa morire lei ha pensato mio figlio sta facendo una cosa contro ogni norma chiamo la polizia le famose madri coraggio insomma che quelle che denunciano che vengono tanto anche strumentalizzate dalle destre insomma che insomma è una cosa a dire poco insomma allucinante ma le perquisizioni nelle scuole secondo me delegittimano pure il ruolo dell'istituzione scolastica come scrisse una volta ci fu un professore sempre qualche anno fa che si oppose a una di queste perquisizioni e venne sospeso licenziato non mi ricordo insomma ebbe tutta una serie di problemi lui non fece entrare i cani accollandogli proprio la sospensione di pubblico servizio interruzione di pubblico servizio quando venne sospeso lui scrisse una lettera proprio facendo presente questa dimensione culturale cioè disvalutazione del ruolo della scuola perché se un'istituzione al posto di fare educazione insegnare va a controllarti non è più affidabile quindi questo va sicuramente a inficiare a toccare anche la credibilità che l'istituzione scolastica ha nel nostro paese e non è e non è poco non è poco queste cose continuano fino agli ultimi fatti recenti ne sono successe due adesso con il nuovo governo a Piazza Ermerina c'era un'associazione che andava a parlare di canapa meglio legale c'era un'associazione legata ai radicali tra l'altro che ha visto la presenza di due poliziotti c'è stata anche un'interrogazione parlamentare su questo che ovviamente il ministro si è negato l'identificazione pur ammettendo il fatto che erano entrati due poliziotti nella scuola e poi ce n'è stata un'altra a Firenze dove un ragazzo è stato perquisito è stato raggiunto nei momenti di orario scolastico proprio perché a quanto pare spacciava cannabis ed è stato perquisito all'interno della scuola cioè paradigmi che davvero sono davvero allucinanti e non so questo è un poco il quadro che secondo me a grandi linee determina il paradigma proibizionista che non porta con sé è una scelta politica che ha delle ricadute delle conseguenze ovviamente sulla sulla nostra società e non so mi piacerebbe adesso magari andare insomma sui modelli un po' di legalizzazione perché il proibizionismo insomma sta un po' venendo scalfito un poco da scelte anche politiche scelte che sono scelte radicali come quella che è stata fatta un poco nel 2013 dall'Uruguay che ha deciso proprio di in un certo senso non aderire più a queste convenzioni perché di fatto sono state poi le convenzioni a creare tutte queste dinamiche insomma che impedendo agli stati proprio di poter proporre anche non solo legislazioni ma anche politiche differenti perché un inquadramento di questo tipo rigido chiaramente proibisce e proibiva gli stati di produrre sostanze di distribuirle di commercializzarle quindi in un certo senso tutti i tentativi o anche quello che poteva nascere di differente veniva bloccato a priori proprio da queste convenzioni anche perché il proibizionismo nonostante perché la domanda che noi ci facciamo fondamentale è come mai un sistema fallimentare viene mandato avanti per tutto questo tempo e fondamentalmente ci rispondiamo sul fatto che non vengono fatte ricerche non vengono fatti studi o quantomeno tutto quello che viene prodotto è tutto tendenzioso un poco come faceva il dipartimento politica antidroga per anni insomma durante i tempi della fine giovanardi che si inventava gli studi nominava referenti americani che sostenevano le teorie del brain disease insomma non diceva la conferenza sulle droghe che era poi il confronto che si doveva avere rispetto all'applicabilità poi di questi modelli di queste politiche quindi insomma questo modello si è per anni sostenuto su delle falsità e sull'ideologia non certo su evidenze scientifiche per fortuna che poi tra l'altro anche tutta la faccenda sulle convenzioni appunto che tu dicevi che hanno proibito 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 poi in realtà uno va a vedere bene le convenzioni di per sé non hanno mai proibito nel senso che gli stati hanno sempre avuto un minimo di spazio per poter decidere tant'è che appunto negli ultimi anni mano a mano banalmente gli stati uniti che sono i primi che si sono trovati da una parte e adesso si trovano dalla parte opposta perché hanno avuto tutto un percorso di legalizzazione lunghissimo che tra l'altro il libro racconta bene stato per stato non hanno mai di per sé proibito ma hanno insomma un po' consigliato indicato la via eccetera eccetera in realtà gli stati avrebbero potuto e io sottolino questa cosa soprattutto riferendomi a quanto è successo da noi in Italia di recente per quanto riguarda la bocciatura del quesito referendario sulla cannabis che è stato appunto ritenuto incostituzionale dalla corte e che si è richiamata proprio alle convenzioni secondo me e secondo in realtà secondo me e secondo chi si occupa di queste cose anche costituzionalisti persone che hanno scritto sul sito mi viene in mente già solo Duffa che è una massima esperta di questi argomenti insomma è stato un po' un pretesto e da giornalista posso confermare perché la corte costituzionale che è un organo non politico si è dimostrato in questo caso molto politico ma nelle stesse parole poi che ha amato si è lasciato andare durante le conferenze stampa successive alla decisione e sulle convenzioni mi piace che c'è un'altra un'altra virgolettato interessante di una studiosa Ant Forman che parla appunto del fatto che i verbali di queste conferenze internazionali sulla politica delle droghe all'inizio del ventesimo secolo presentavano prevalentemente negoziatori maschi e bianchi che decisero che le piante psicoattive che le persone di colore nero e marrone usavano dovevano essere vietate mentre bevevano cognac e fumavano sigari mi piace questa rende bene l'idea per due motivi secondo me innanzitutto appunto sottolinea l'appartenenza etnica e anche di genere sessuale a sottolineare il fatto che poi delle persone dove le persone che facete parte di popolazioni dove non c'era una problematica di uso ma dove proprio non c'era la tradizione in Europa non c'era una tradizione forte di uso di cannabis non c'era assolutamente una tradizione di oppio e di coca mentre l'Asia la Cina per quanto riguarda soprattutto la pianta da oppio ma anche il centro sudamerica per quanto riguarda la coca eccetera aveva una tradizione millenaria adesso mi ricordo una nota del libro parlava addirittura del 4000 avanti Cristo in Africa per alcune piante non solo tra l'altro come uso ricreativo diciamo sollievo dalla stanchezza ma anche tutta una tradizione medica farmacologica noi siamo arrivati noi appunto colonizzatori siamo arrivati abbiamo cancellato con dei documenti basati sul nulla sostanzialmente appunto queste convenzioni tutta una tradizione ricchissima culturale è fortissima è come se da noi io mi immagino quando leggo queste cose che è come se da noi domani appunto non so la Cina ad esempio arrivasse e ci dicesse guardate non potete più consumare alcol è illegale noi ad esempio visto che l'alcol è una droga e tra l'altro è la droga più pericolosa per quanto riguarda ad esempio il numero di morti ecco per quanto riguarda il numero di morti in Italia perché è la droga che ne fa di più le sigarette prima l'alcol dopo noi abbiamo una tradizione molto forte culturale per quanto riguarda l'alcol e il motivo per cui non siamo un paese di zombie alcolizzati è esattamente anche molto dovuto alla tradizione di uso che ci tramandiamo no? da persona a persona poi sì esistono i consumatori problematici di alcol perché comunque è una droga e crea una certa dipendenza e su questo appunto la citazione parlava di cognac e di sigari che sono due droge molto più pericolose della cannabis per tantissimi motivi non hanno neanche degli usi medici però oggi se vuoi torniamo a quello che diceva Antovano per quanto riguarda il senso di proibire ad esempio il fumo o l'alcol penso che tutti capiscano che porterebbe appunto solamente a una situazione molto peggiore allora perché la cannabis che è una droga molto più sicura ancora non è stato deciso il mostro e ancora ci si basa su queste convenzioni nonostante poi l'ONU se vuoi raccontare cosa è successo nel 2020 sì ma quello su tabacco e alcol è il grande cortocircuito proibizionista in particolare italiano nel senso che come dicevi tu in particolare l'alcol che è diciamo una sostanza che accompagna l'uomo italico esatto il tabacco è arrivato un po' dopo è addirittura all'interno come la cannabis per altre religioni all'interno dei riti religiosi della religione diciamo maggioritaria in questo paese eppure è la sostanza che secondo la famosa classifica di pericolosità pubblicata da Lancet è al primo barra secondo posto la seconda di pericolosità un bicchiere al giorno dice il nostro ministro un bicchiere al giorno richiama quell'uso moderato e quella capacità di autoregolazione nell'uso di una sostanza che pure in caso di uso problematico può portare alla morte porta alla morte diretta di un migliaio di persone l'anno in Italia ma ad anni legati al suo uso per decine di migliaia di morti l'anno appunto però la sua capacità di essere inserita in una cultura che insegna ai propri figli come usare e porsi rispetto a quella sostanza per cui più o meno tutti noi siamo stati iniziati all'alcol in famiglia e in tenera età io a 7-8 anni con uno sciacquone di acqua e vino che mi ha inorridito e da lì ai 27 anni non ho più toccato un goccio di alcol altre culture hanno altre tradizioni appunto legate anche all'uso rituale della cannabis o della coca e così mi ricollego alle convenzioni le convenzioni sono state intanto interpretate in modo assolutamente univoco e da un blocco di 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 assoluta scusate mi sto incartando di assoluta compattezza dell'intero mondo che si diciamo stati che vengono rappresentati all'ONU fino agli anni 2000 tant'è che nel 61 si fa la convenzione unica sulle droghe sulle piante e quindi sull'origine vegetale nel 71 si fa sulle sostanze psicotrope diciamo l'ampio raggio per cui quelle chimiche poi ci si aggiunge anche le singole molecole per cui il THC ed altro nell'88 si fa la peggiore che quella che obbliga gli stati a punire i comportamenti in violazione della convenzione ma non tutti i comportamenti ad esempio l'uso personale non è tra i comportamenti che le convenzioni obbligano a punire e comunque quella dell'88 obbliga a punire secondo le indicazioni di quelle del 61 e del 71 e cosa dicono quelle del 61 intanto perché nascono quali sono i principi cardine di quelle convenzioni sono due una è la garanzia della disponibilità di farmaci derivanti da sostanze psicotrope cioè fra l'altro in teoria il primo il primo motivo di quelle convenzioni è assicurare agli stati che le sostanze derivate dalle piante siano disponibili per l'uso medico il secondo è quello di eliminare gli abusi di tale sostanza e le diversioni dall'uso medico nello scritto si parla di abuso poi ognuno interpreta quell'abuso come vuole addirittura nella versione cinese è tradotto come uso qualcuno può interpretarlo appunto come abuso perché devia non è uso terapeutico per cui qualunque uso non terapeutico è abuso qualcun altro potrebbe interpretarlo in altro modo è linguaggio diplomatico che lascia sempre via aperte ma soprattutto quella convenzione dice secondo le norme costituzionali degli stati e secondo le esigenze degli stati e non vieta in assoluto la coltivazione della cannabis per dirne una peraltro divieto in assoluto che era intruittato nella nostra legge giusto per riprospondere ad amato velocemente nell'articolo 26 del testo unico sulle droghe e non nell'articolo 73 tanto che l'articolo 28 che deriva direttamente dall'articolo 26 per le violazioni rispetto alla coltivazione rimanda al reato di fabbricazione e non di coltivazione indicato nell'articolo 73 qui la chiudo avrebbe spiegato un po' meglio ma diventa una parentesi ma non era colpa del comitato promotore del referendum se avete sentito la conferenza di Amato che gli ha accusato uno dopo l'altro ed è peraltro non sulla cannabis ma sulla foglia di coca che c'è la prima incrinatura cioè la Bolivia nel 2009 scusate vado a memoria 2008 denuncia la convenzione prima inserisce come uso tradizionale nella propria costituzione la masticazione della foglia di coca che è un uso tradizionale delle popolazioni indigene che stando a 3000 metri di media di altezza hanno bisogno diciamo come noi del caffè di tenersi un po' su dopodiché esce dalla convenzione che invece vietava anche la foglia di coca e vi rientra con l'eccezione della foglia di coca quello è il primo momento in cui si incrina il monolite il monolite la chiesa della proibizione come la chiama Peter Cohen in cui nessuno ma anche in Italia parrebbe ancora così perché si fa fatica ad opporsi ancora alla frase la droga fa male per cui qualsiasi e di fatto Mantovano riprende quella linea chiunque ipotizzi anche solo che possa esserci un uso autoregolato legale di una sostanza che appunto perché 20 signori bianchi di mezza età si sono incontrati e hanno deciso che quella sostanza doveva essere evitata e non l'alcol il tabacco il caffè per dirne un'altra qualsiasi persona mette in dubbio questa cosa è qualcuno che vuole uccidere i nostri figli il problema è che oggi c'è un consumo autoregolamentato perché ci sono adesso parlando solo di cannabis ci sono 6 milioni di persone solo in Italia che fanno uso di cannabis se aggiungiamo insomma anche altre droghe cocaina che è molto più consumata ad esempio non ci sono ecco epidemie di morti da cannabis ovviamente no ma neanche da cocaina quindi vuol dire che comunque ci sono milioni di persone che ne fanno uso tutti i giorni che sono persone che hanno magari un uso non problematico di per sé ma che vengono completamente nascoste dal discorso pubblico dal discorso politico soprattutto perché poi in realtà i servizi di questo vogliono parlare vogliono portare soprattutto anche la testimonianza dei cosiddetti PUD e le persone appunto che fanno uso di droghe ma si parla sempre solo dell'aspetto problematico quindi quello dell'abuso e questo secondo me è anche un grosso limite per quanto riguarda il dibattito pubblico e politico oggi tanto che appunto basta l'uso per essere abusanti o viene qualificato come di per sé uso problematico mentre appunto per l'alcol questa cosa anzi non solo non succede ma se qualcuno prova a dirlo come ha provato a farlo l'Irlanda inserendo chiedendo di inserire nelle etichette nuoce gravemente l'alcol nuoce gravemente la salute non so che cosa abbiano proposto di fare si è alzata diciamo l'alzata di scudi dei dei crociati nostrani contro la a favore dell'alcol ma contro la cannabis questo volevo aggiungere secondo me è un problema di manipolazione del linguaggio quindi è chiaro i linguaggi proibizionisti non distinguono tra uso abuso e dipendenza sperimentazione uso abuso e dipendenza che sono quattro dinamiche completamente diverse non vengono queste differenze non vengono fatte così come se voi andate a leggere gli scritti del dipartimento politica antidroga si parla di non si parla di utilizzatori di sostanze ma si parla di tossicodipendenti quindi questa è chiaramente sì infatti dipartimento politiche antidroga insomma quindi è chiaro che il proibizionismo è stato negli anni siccome è inconsistente come teoria deve essere sostenuta da altri elementi il linguaggio è uno di queste insomma che negli anni ha sostenuto e ha prodotto poi anche consenso rispetto a questo poi gli approcci che in un certo senso il proibizionismo persegue sono approcci di tipo scherno cioè anche la polizia a scuola cosa ci va a fare non va sicuramente a parlare di sostanze a fare prevenzione va a far vedere quelli che sono i sequestri porta i cani e quindi fa vedere gli arresti quindi cerca di comunque instillare una certa paura nei confronti delle persone che poi conseguentemente a questa paura poi dovrebbero rinunciare a usare sostanze quindi anche lì è anche un passaggio questo molto debole molto infatti poi per fortuna però che rispetto anche a quello che dicevi prima tutto ciò che sono le regole informali e la cultura poi delle sostanze si afferma anche indipendentemente dalle leggi ed esistono per esempio anche dei modelli che in un certo senso promuovono questa cultura modelli anche informali mi vengono in mente ad esempio come descrivevate bene nel libro i Cannabis Social Club che chiaramente non sono un modello di regolamentazione legale perché si inseriscono nelle maglie un po' della legge però di fatto cosa sono i Cannabis Social Club sono dei luoghi dove le persone che usano cannabis si incontrano allora lì la cultura della Cannabis che è legata alle forme di uso ma anche al fatto di utilizzare in un certo modo insomma le estrazioni piuttosto che le separazioni il fatto di sapere i principi attivi delle sostanze che ti stai fumando la possibilità anche nel momento in cui non lo sai se vogliamo di ricorrere a forme di analisi che in un certo senso possono essere poco costose perché la Cannabis è difficile analizzarla con dei test rapidi adesso esistono dei test che ci dicono fondamentalmente se una infiorescenza o un'estrazione o insomma dell'Ash può avere più THC o più CBD però in realtà è un'analisi molto approssimativa serve mandare in gas cromatografia quindi sono analisi molto complesse che costose e che quindi insomma tanti cannabis club in Spagna hanno le convenzioni ad esempio con energy control e con altre strutture che possono nel momento in cui c'è una richiesta e questo insomma mi vengono in mente a me tutta la logica ad esempio dei cannabinoidi sintetici che insomma poi non so magari Elisa ci può dire c'è stato un boom insomma dei cannabinoidi sintetici che arrivavano un po' dalla Svizzera e che insomma anche a Torino insomma sono stati oggetto di analisi e anche di allerte perché voglio dire l'unico modo per cui un della cannabis può uccidere è il cannabinoidi sintetico perché come ci spiegò bene benissimo un farmacista durante una summer non è tanto la potenza di quel cannabinoidi sintetico è il meccanismo di azione di quel cannabinoide che legandosi con un coefficiente anche 10-100 volte superiore a quello naturale alla membrana recettoriale produce tutta una serie di effetti che possono essere anche molto gravi insomma quindi mi ricollego a questo per una nota poi ritorniamo alle convenzioni e ai modelli che eravamo partiti da lì anche io con le parentesi faccio fatica il proibizionismo ad esempio prendendo ad esempio tutta la produzione di NPS cioè di nuove sostanze psicoattive che poi nuove sono fino a un certo punto nel senso che è un cane che si morde la coda ovvero il proibizionismo prima vieta le sostanze naturali diciamo il mercato continua a richiederle per fortuna la chimica nel frattempo ha fatto dei passi in avanti e per sfortuna viene applicata anche nel campo della compravendita illegale di sostanze per cui ci sono dei chimici che inventano una molecola che simula le stessi effetti della sostanza naturale che sia l'eroina che sia la cocaina che sia la cannabis ma con rischi che appunto come ricordava Frenchi sono molto più alti spesso in alcuni casi anche mortali pensando in particolare alla cannabis queste sostanze una volta che vengono trovate magari dai servizi di drug checking che questa regione ha deciso di non finanziare più vengono segnalati al Ministero della Sanità il Ministero fa una segnalazione a non mi ricordo se all'INCB o direttamente all'Unione ADC e poi vengono inseriti nella lista delle sostanze proibite a livello internazionale per cui ogni anno a Vienna io e Susanna Ronconi andremo domani c'è questa riunione in cui ci sono i rappresentanti di tutti gli stati che aderiscono alle convenzioni che ogni anno votano per l'inserimento di una sostanza nuova sostanza nella tabella tanto che le tabelle che prima erano due pagine oggi sono diventate un elenco infinito di sostanze in particolare sostanze chimiche che ogni anno vengono aggiunte e una volta aggiunta c'è comunque un chimico da qualche parte che trova un'altra sostanza leggermente diversa che quindi poi verrà inserita e è un cane appunto che si morde la coda cosa è successo nel 2020 così rispondiamo alla domanda nel 2020 dopo un processo lungo iniziato nel 2008 2009 con la prima inclinatura del fronte unitario contro le droghe che si è evoluto negli anni da un lato con l'evidenza dell'assoluta maggiore dannosità delle politiche proibizioniste in particolare della militarizzazione della guerra alla droga in Sud America per cui nel 2014 Guatemala Messico Colombia io non mi ricordo mai il quarto chiedono una convocazione d'urgente dell'assemblea generale delle nazioni unite sulle droghe proprio per rivedere quelle che nei loro paesi stanno provocando politiche che nei loro paesi stanno provocando decine centinaia di migliaia di morti perché solo in Messico l'escalation della war on drugs più o meno dal 2006 in poi ha portato a oltre centomila fra sparizioni e morti nella guerra fra stato diciamo fra polizia e cartelli una guerra un po' strana tanto che il capo dell'antidroga messicana è stato recentemente condannato negli Stati Uniti per aver aiutato i cartelli di Sinaloa diciamo che poi lì se non gli aiuti la cosa diciamo paradossale sarebbe anche divertente è che come diciamo i criminologi insegnano appunto uno un mercato ha bisogno di essere regolato cioè il mercato domanda la regolazione se non c'è lo Stato ci pensa la mafia o ci pensano i carabinieri come parrebbe essere stato a Piacenza ma non solo a Piacenza perché ci sono anche altri casi e poi si scopre che le organizzazioni criminali hanno talmente tanti soldi che non solo inquinano l'economia legale per cui tutta questa massa di soldi che arriva dal narcotraffico e dal commercio di armi e dal commercio e dalla tratta di persone viene reinvestita poi nell'economia legale facendo fra l'altro dumping nei confronti degli onesti imprenditori italiani che qualcuno dovrebbe a parole difende ma nei fatti non lo fa ma corrompe anche strutture dello Stato in Messico c'è questo caso adesso mi viene in mente tanto per citare un altro caso italiano nella famosa vicenda del Rototom in cui ci fu un processo nei confronti degli organizzatori del più grande festival regge italiano che si teneva ad Osoppo nel Fruili per istigazione all'uso di sostanze stupefacenti e per diciamo messa a disposizione del locale in cui ovvero dell'area del concerto in cui si usava il Rototom è stato spostato in Spagna intanto giustamente loro gli organizzatori sono stati assolti gli unici condannati di quella vicenda sono stati due carabinieri che avevano svolto le indagini e che poi si è scoperto che usavano la sostanza sequestrata per spacciarla diciamo nel loro giro questo credo che sia rende evidente di come tutto questo castello è un castello di carte che diciamo al primo problema cade tornando alla domanda nel 2020 la cannabis viene rimossa la prima volta che una pianta viene rimossa dalle tabelle viene rimossa dalla tabella quarta per cui ne viene riconosciuto il valore terapeutico non è più fra le sostanze particolarmente necessitate di controllo perché quelle sostanze in tabella quarta le convenzioni prescrivevano che dovessero avere un regime particolarmente controllato per cui non si capisce più bene perché ci sia tutto questo problema rispetto alle cannabis terapeutica apro e chiudo questa parentesi e questo avviene perché non solo i paesi sudamericani appunto avevano chiesto di ridiscutere le impostazioni politiche sulle droghe questo succede nel 2016 con l'assemblea generale in cui viene messo nero su bianco che le convenzioni sono flessibili e quindi interpretabili questo viene messo nero su bianco dai paesi che controllano quelle convenzioni ma nel frattempo nel 2012 ci sono stati i primi referendum negli Stati Uniti che hanno portato poi nel 2014 alle prime aperture di negozi per la vendita ad adulti di cannabis per uso non terapeutico nel 2013 l'Uruguay decide di avviare una riforma per cui legalizza la cannabis ad uso terapeutico e non poi quella diciamo la vendita in farmacia arriva ad essere esecutiva solo nel 2017 nel 2018 il Canada approva e da lì a tre mesi rende esecutiva la legge che legalizza la cannabis insomma quel fronte che aveva avuto la prima crepa nel 2008 è oggi notevolmente incrinato questo non vuol dire che ci sia stato un cambio repentino delle politiche tanto che quel voto non è un voto facile è un voto che finisce 27 a 25 con Marco Perduca avevano fatto la diretta streaming ed eravamo lì a contare fino all'ultimo non si sapeva se sarebbe passato quella raccomandazione che era una raccomandazione dell'organizzazione mondiale della sanità che chiedeva di rimuovere la tabella quarta e mantenere la cannabis nella tabella 1 pur riconoscendo che la cannabis ha problemi d'uso molto minori rispetto alle altre sostanze in quella tabella cioè dicendo la cannabis in effetti non dovrebbe stare lì ma ci deve stare perché la usano talmente in tanti che il danno complessivo è ne giustifica la presenza nel senso che porta anche a alta dipendenza un altro mito incredibile la cannabis quando invece è intorno tra il 4 e 9% dei utilizzatori di cannabis quindi anche una dipendenza molto di gran lunga inferiore a tantissime altre sostanze legali sì sì ma lì diciamo l'OMS in un modo molto politico che non dovrebbe essere il ruolo dell'organizzazione mondiale della sanità appunto è molto discusso anche tra la società civile che si interessa di queste cose comunque ne ha mantenuto la presenza nella tabella 1 fatto sta che da lì un po' cambia tutto perché Malta nel 2021 depenalizza l'uso personale e la coltivazione dell'uso personale e i cannabis social club che quindi cannabis social club sono un'esperienza nata in particolare in Spagna in cui consumatori si associano sfruttando in quel caso spagnolo un'apertura nelle maglie della legge spagnola che permette la coltivazione dell'uso personale e nonostante un po' di giudizi diciamo ondivaghi delle corti spagnole rimane un'esperienza che rimane ancora oggi in essere poi declinata in vario modo Malta di fatto è il primo paese che no non è il primo paese perché l'Uruguay aveva già previsto e sono mi pare circa 200 i cannabis social club oggi aperti in Uruguay però Malta è la prima nazione europea che di fatto legalizza non la cannabis in cenare ma le condotte ad uso personale e questo per star dentro anche a dei riflessi della normativa europea che in qualche modo rendono complicata la strada di Germania e Lussemburgo che invece vorrebbero legalizzare e Repubblica cieca che si è aggiunta di recente vorrebbero legalizzare anche la distribuzione e vendita diciamo commerciale la Germania però la legge l'ha fatta passare della produzione e vendita no nel senso per poi venderla agli paesi come fa l'Olanda terapeutica ah sì certo a fini terapeutici come San Marino tra l'altro ad esempio sì 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 quella terapeutica ce la vuole vendere l'Italia l'Italia fino a la vendiamo ai cugini noi la cosa assurda è che l'Italia fino a pochi anni fa era la quarta produttrice di cannabis terapeutica in Italia cioè quando era cominciata l'esperienza dell'istituto farmaceutico militare che aveva cominciato a produrre 50 kg di cannabis all'anno noi eravamo fra i primi a produrre eravamo i primi produttori di canapa noi per fini industriali quindi soprattutto tessili e legati all'industria navale perché venivano usati per le corde eccetera eccetera però comunque avevamo intere zone del nord-est che erano campi infiniti di canapa io vengo da Ferrara esatto Ferrara il territorio ma di tutto la pianura padana ma in particolare del bolognese e del ferrarese è segnata dalla cultura della canapa cioè ci sono tutta una serie di laghi artificiali che si chiamano maceri perché lì veniva messa a macerare la canapa che disegnano proprio cioè la cultura della canapa ha disegnato il nostro territorio ma volevo fare una frecciata all'istituto farmaceutico militare eravamo i primi quando ne coltivavano 50 kg e poi è continuato a coltivare al massimo 50 kg per cui siamo diciamo un po' rimasti indietro rispetto agli altri tra l'altro due cose all'epoca fu l'avvento del fascismo di Mussolini anche lì si attaccò a una questione razziale dicendo parole sue che appunto la usavano i negri e quindi la cannabis non doveva essere coltivata e invece per quanto riguarda l'istituto l'anno scorso ci hanno detto che sono arrivati a 250 kg poi alla fine però si è scoperto che 100 li hanno dovuti buttare perché non andavano bene insomma alla fine perché invece San Marino che ha fatto passare l'anno scorso una legge per cui ha aperto a privati la coltivazione di cannabis a uso terapeutico per farvi dire quanto il profizionismo alla fine ha nebbi le menti il governo che ha proposto e ha fatto poi passare quella legge era un governo di destra che però come dovrebbero fare visto che dicono di essere tanto affezionati alle politiche liberali si sono fatti due conti in tasca e hanno detto aspetta ma noi ci guadagniamo un sacco di soldi e i nostri cittadini ci guadagnano un sacco di soldi perché appunto è aperta ai privati la coltivazione e la vendita che è quello appunto che viene in Germania non so se vuoi far vedere il video di Riccardo magari ce lo dice lui buon pomeriggio a tutti ci tengo a mandarvi un saluto e soprattutto a dirvi che mi dispiace di non essere riuscito a essere presente fisicamente lì con voi per la presentazione di questo pomeriggio questo è un libro che vale la pena continuare a presentare e continuare a far conoscere perché a mio avviso è prima di tutto la storia il racconto di alcune tappe salienti di come le democrazie possono riuscire a funzionare a funzionare bene o attraverso gli strumenti della partecipazione popolare quindi attraverso il referendum o attraverso le decisioni che vengono prese dai parlamenti per modificare delle politiche anche dopo anni che quelle stesse politiche erano state adottate con un segno opposto quindi sostanzialmente di come le democrazie funzionano correggendo i propri errori e in particolare gli errori che sono stati fatti un po' in tutto il mondo sulle politiche sulla droga e quindi i provvedimenti che in vari paesi del mondo sono stati adottati di regolamentazione i primi provvedimenti di regolamentazione e di legalizzazione della cannabis questo tema ha un'attualità come dire intramontabile anzi ogni anno che passa è un tema che rappresenta un'urgenza ancora più forte e insomma devo dire che ormai siamo anche tutti stanchi di sentirlo considerare come purtroppo avviene sui media principali e nel racconto mainstream come una provocazione in realtà la legalizzazione della cannabis è una misura di governo che nelle democrazie più avanzate comincia ad essere adottata in maniera insomma massiccia ne parlerete la maggioranza degli stati americani il Canada quello che sta avvenendo in Germania come appunto un'azione di governo una soluzione di governo di un grande fenomeno sociale di un fenomeno sociale complesso ma una soluzione che consente di affrontare meglio questo tema e soprattutto di rispondere meglio all'interesse pubblico l'interesse pubblico principalmente è quello di tutelare la salute dei cittadini combattere il mercato illegale combattere le organizzazioni che lucrano sul mercato illegale ma anche di preservare e garantire la libertà di scelta dell'individuo la libertà che riguarda lo stile di vita gli stili di vita che l'individuo sceglie e non essere per questo perseguito o perseguitato dallo Stato il tema il tema dicevo è molto attuale se noi pensiamo ad esempio alle parole che ieri pomeriggio sono state pronunciate presso l'ONU presso la commissione stupefacenti delle Nazioni Unite da parte del sottosegretario alla presidenza del consiglio Mantovano non ci sorprende che Mantovano che è uno degli autori insomma è stato uno degli autori della legge Fini-Giovarardi continui a coltivare le proprie ossessioni diciamo anche a distanza di tanto di tanti anni da quella legge e ognuno è libero di coltivare le proprie ossessioni però come vuole però si dà il caso che se si hanno ruoli di governo così importanti beh sarebbe richiesto un maggiore contatto con la realtà Mantovano ieri ha detto per l'ennesima volta come un disco rotto e come se non fossero trascorsi 30 anni da quando quella sciagurata legge è stata promulgata e poi è stata anche in parte modificata dalla Corte Costituzionale proprio sul punto che a Mantovano sta al cuore e cioè sta al cuore e cioè sul fatto che ci ha ripetuto che le droghe sono tutte uguali e le droghe fanno male contro ogni evidenza scientifica sul fatto che oggettivamente le sostanze hanno delle differenze sostanziali l'una dall'altra e l'evidenza anche dell'esperienza che abbiamo avuto nel nostro paese proprio con quella legge che faceva un po' di tutta l'erba un fascio e considerava addirittura da un punto di vista penale delle sanzioni penali un po' alla stessa maniera ecco sono passati 30 anni quegli obiettivi che quella legge tolleranza zero si proponeva non sono stati raggiunti anzi abbiamo avuto come sicuramente insomma racconterete e sarà detto nell'incontro di oggi abbiamo avuto dei risultati opposti in termine di aumento dei consumi per questi motivi proprio perché purtroppo l'attualità istituzionale e politica del nostro paese sembra tragicamente non fare passi avanti ma poi vediamo che nel mondo e questo è anche il tema del libro le cose cambiano le cose si modificano ci sono dei progressi pure pieni di contraddizioni ma comunque dei progressi ci sono e avvengono sotto delle spinte politiche sotto delle spinte di partecipazione sotto delle spinte culturali di approccio diverso e approccio nuovo e nel nostro paese nella scorsa legislatura abbiamo avuto per la prima volta dopo tanti anni l'avvio di una discussione nell'aula di Montecitorio quindi nell'assemblea plenaria di una discussione che riguardava un aspetto particolare della cannabis cioè la possibilità di coltivare cannabis per uso personale in modo completamente depenalizzato quella discussione che faticosamente siamo riusciti a portare fino all'aula è terminata perché poi è caduto il governo esattamente la settimana successiva ovviamente in questo momento ci sono ridepositati e assegnati alle commissioni competenti alla commissione giustizia affari sociali diversi testi che riguardano ai quali anche alcuni dei presenti insomma lo stesso Leonardo ha partecipato riguardano una riforma complessiva della legge Finigio Panardi un altro testo che riguarda in particolare un provvedimento di regolamentazione e legalizzazione della cannabis della produzione della vendita del commercio e della detenzione e un'altra norma che riguarda invece ricalcando quella in cui esame si era interrotto nella scorsa legislatura che riguarda in particolare la coltivazione finalizzata all'uso personale l'obiettivo in ogni caso è quello di utilizzare questi testi differenti che agiscono anche su livelli differenti e con una portata differente come strumenti per riportare all'interno delle istituzioni questa discussione e questo dibattito perché siamo convinti che sia urgente proprio per la nostra società sia urgente anche per interrompere i danni che l'approccio normativo l'approccio repressivo e punitivo continua a fare nel nostro paese alla vita di moltissime persone in particolare giovani e giovanissimi il fatto che in questo momento vi sia nel nostro paese un governo in cui appunto una personalità come quella di Mantovano ha così tanto peso non deve farci demordere assolutamente ricordiamo anche che se vi fosse da un punto di vista politico la volontà politica di tutte le opposizioni di portare avanti una proposta di questo tipo e portarla fino all'aula questo può avvenire e avrebbe comunque il senso e il valore di avere un dibattito pubblico nella maggiore sede legislativa del paese nel Parlamento avere un lungo ciclo di audizioni nel quale tutti gli esperti da tutti i punti di vista tossicologico giuridico sociologico ed altri potrebbero sostenere questo tipo di percorso questo non sarebbe inutile considerando i numeri che ci sono ma sarebbe comunque un modo di far vivere le istituzioni e un modo di continuare a coltivare e a favorire quell'onda verde di cui il libro parla grazie a presto secondo me possiamo proprio ripartire da quello che stava dicendo Riccardo mi piaceva perché stava dando un input che mi piacerebbe riprendere che è proprio quello del fatto che la legalizzazione non è che basta legalizzare bisogna farla bene e non è solo l'aspetto economico la legalizzazione io un po' l'impressione che insomma gli Stati Uniti ma anche il Canada abbiano puntato molto sull'aspetto economico tralasciando tutta una serie invece di variabili e di dinamiche che invece sono centrali ad esempio allora i mercati devono proteggere la salute come stava dicendo proprio Riccardo dei diritti umani delle persone che usano droghe quindi serve una filiera controllata serve rimuovere lo stigma perché anni e anni di proibizionismo hanno prodotto uno stigma nei confronti di chi usa droghe allora le persone anche nei luoghi di lavoro per esempio se usano anche semplicemente cannabis vengono considerate inefficienti drogati persone a rischio insomma quindi tutta questa è una dimensione con cui bisogna fare i conti poi serve garantire l'accesso ai servizi di prevenzione e cura e riduzione del danno perché altrimenti non ce ne facciamo niente insomma quindi queste vanno quindi anche rimodellate tutte le politiche e tutti i servizi che girano attorno alle sostanze poi deve essere garantita l'autodeterminazione delle persone la privacy per esempio la questione del registro dei consumatori come è stato fatto in Uruguay l'Uruguay per esempio è un buon modello a tre vie di accesso però ha questo limite del registro che ha prodotto il fatto che il 20% solo delle persone sono state intercettate nei primi tre anni cioè solo il 20% delle persone che consumavano cannabis illegalmente sono passate al mercato legale quindi questo è chiaramente decreto un po' una sorta di fallimento ma poi anche i mercati devono essere competitivi col mercato nero cioè non puoi creare un mercato legale come in Canada ad esempio dove la cannabis costa il doppio dal mercato nero e la qualità è più scadente perché sì costava adesso il Canada ha fatto un po' di passi avanti infatti è arrivato mi pare al 60% di mercato legale 70% però insomma queste cose bisogna tenerle in considerazione poi garantire la giustizia sociale quindi facilitando questo è un tema che bisogna portare cioè l'accesso ai mercati alle persone che sono state vittime del proibizionismo quindi questo è un tema forse che gli Stati Uniti si stanno ponendo rispetto alle esperienze per esempio che ci sono state negli Stati che l'hanno fatto per prima insomma quindi gli Stati Uniti hanno un modello federale quindi sono gli Stati confederati che legalizzano su referendum popolari o su iniziative parlamentari quindi lì hanno questo pregio di prendere un po' le esperienze degli Stati che l'hanno fatto prima per poi cercare di rimodellare e creare qualcosa che abbia più un senso quindi fare in modo che ad esempio quelli che erano gli antichi spacciatori si inseriscono in un mercato legale cioè questo non è un dettaglio quanto meno poi eliminare i monopoli cioè il monopoli creare un sistema della cannabis come l'alcol o il tabacco è già una perdita in partenza perché il monopolio non crea quella sostenibilità del mercato che invece diciamo una serie una regolamentazione di piccoli produttori invece potrebbe potrebbe essere sicuramente più adeguata poi c'è tutto il sistema della proibizione a livello globale è chiaro che non permette gli scambi transnazionali tra sostanze non permette chiaramente l'intervento della tracciabilità dei guadagni perché le banche non sostengono chiaramente la vendita di droghe quindi a livello internazionale e quindi tutto il giro della cannabis legale adesso gira o in contanti o in criptovalute quindi insomma questo è più o meno il quadro che c'è quindi questo va sicuramente anche modificato poi è chiaro che un approccio di legalizzazione a livello globale potrebbe sicuramente far fronte a tutte queste tematiche poi serve depenalizzare l'uso di droghe anche qui insomma allora che facciamo legalizziamo ed è legale solo la cannabis legale cioè se non si riescono a sconfiggere i mercati neri è chiaro che il mercato nero produrrà cannabis così come ad esempio le questioni del fumare nei luoghi pubblici che insomma allora penalizziamo chi fuma nel luogo pubblico o chi guida sotto l'effetto di cannabis allora le sanzioni vanno date però devono avere una corrispondenza scientifica cioè devono avere un valore non possono essere date così to cure quindi questi sono tutte tutti elementi che secondo me vanno presi in considerazione perché un cambiamento di questo tipo va a toccare tutta una serie di apparati che sono ancora adesso centrati sul proibizionismo quindi questo sicuramente è un elemento rispetto ai modelli io credo che il modello Uruguay è un buon modello cioè per come nasce cioè nel senso che l'accesso a tre vie che è quello della farmacia l'autocoltivazione i cannabis social club è una cosa realistica che in qualche modo può essere sostenibile perché perché il malato ad esempio il paziente può è abile ricorrere alla coltivazione ma può anche andarsela a prendere in farmacia il modello del club è fondamentale perché comunque differenzia anche tutta una serie di competenze allora io per esempio se ho il pollice verde posso coltivare se sono bravo ad amministrare magari mi occupo dell'aspetto di distribuzione se non so fare nell'uno o nell'altro do una tassa e sostengo l'associazione quindi do un contributo quindi questo è un modello davvero sostenibile che evita quella dimensione invece dei dispensari che secondo me sono quelli che ti vendono a prezzi molto alti e tagliano fuori tutta la parte della popolazione che non riesce a mantenersi a pagarsi 15-20 dollari un grammo di erba quindi poi insomma c'è tutto il problema del mercato nero che vendendo a 15-20 dollari c'è un mercato nero che può essere florido vendendo tranquillamente a 10 dollari ed è già molto meno insomma se più ancora anche la qualità come era successo in Canada era migliore al mercato nero allora queste sono criticità forti che portano al fatto che questa legalizzazione non arriva da nessuna parte poi chiaramente bisogna essere sostenibili le dimensioni delle discriminazioni sia di razza che di sesso devono essere eliminate quindi insomma ci sono tutta una serie e poi serve soprattutto avere dei dati dei dati reali certi che in base al quale ci si può modulare quindi se una cosa non va deve venire fuori deve venire fuori per poter essere poi modificata insomma quindi insomma su questo credo che ci sia diciamo noi sarebbe bello avere questi problemi ma purtroppo noi non abbiamo neanche mezzo di questo problema non possiamo discutere di nessuna mancanza di nessun sistema regolamentare perché non ne abbiamo neanche mezzo anzi siamo in paese in cui se giri con una canna o insomma se ti beccano e ti va la patente è come se ti levassero la patente perché stai portando una bottiglia di vino a casa di un amico per una cena questo è il nostro paese giusto per capirci più o meno noi abbiamo penso toccato vari punti insomma forse siamo anche dilungati potremmo continuare all'infinito esatto perché è molto interessante anche se qualcuno vuole intervenire con domande non so osservazioni eccetera non mangiamo se no potremmo chiedere a Susanna se ci spiega perché Susanna ha detto che oggi non vuole parlare gliel'ho chiesto prima ma no non spiego niente però stavolta fatemi fare delle domande allora mi sembra molto interessante anche quest'ultima parte sui diversi modelli di legalizzazione no perché in effetti non basta togliere dal codice penale bisogna organizzare un sistema alternativo insomma ed è una sfida interessante con tutte le cose che Frenchi elencava allora ho una domanda di questo tipo alcuni stati hanno legalizzato ormai da tempo e stanno monitorando le loro politiche no quindi a parte che rimando un po' anche al sito nostro fuoriluogo.it perché ciclicamente segnaliamo no studi di questo tipo però chiederei sia a Leonardo che a Frenchi rispetto a quello che sanno sinteticamente perché poi questo aprirebbe forse un altro incontro no però possiamo elencare alcune cose le più importanti che i primi studi di monitoraggio già hanno messo in evidenza positivamente e anche problematicamente ma più che altro positivamente cioè cosa è che funziona laddove dei modelli si stanno verificando in qualche modo efficaci no e la seconda domanda è però questa è un'altra questione riguarda invece la situazione italiana il referendum è andato come è andato qualcosa ci fa dire che se avessimo potuto farlo forse avrebbe vinto per il polso che abbiamo un po' della società italiana e forse non a caso non ce l'hanno fatto fare direi e cosa succede adesso perché evidentemente con questo governo è difficile e allora io trovo importante che ci diciamo che strumenti abbiamo per non chiudere la partita per cinque anni insomma provo a cominciare io a rispondere allora diciamo il paese che si è dotata e anche previsto nella legge un sistema di monitoraggio costante e periodico è il Canada che prima della legalizzazione ha cominciato a fare un lavoro di studio rispetto al consumo di cannabis in particolare l'ha mantenuto in questi anni e a cinque anni dall'approvazione della legge ha iniziato quella che è la revisione formale delle normative dico come diceva Frenchi c'è stati vari grossi problemi all'inizio della regolamentazione rispetto proprio all'efficacia del mercato legale rispetto a quello illegale sia perché erano poche le aziende che erano state selezionate all'inizio con soglie di accesso molto alte che hanno anche favorito diciamo società più grosse che problemi di prezzo e di qualità rispetto a un mercato e a degli utenti di quel mercato che diciamo vedeva già una prevalenza d'uso molto alta per cui era un mercato abbastanza vivo e che avevano dei rifornitori diciamo affidabili fidati e di qualità anche perché ovviamente le dimensioni del paese facilitano anche diciamo i rapporti di vicinato in questo caso tanto che per dire ci sono alcuni stati penso a quello del Quebec che ha alcuni province che hanno tenuto all'inizio un braccio molto chiuso per cui con pochi negozi e quindi con difficoltà di accesso anche al negozio appunto in Canada le distanze sono molto ampi per cui dovessi fare decine centinaia di chilometri per andare a rifornirsi facilitava invece il rifornimento dal produttore di fianco nel ranch più vicino stante questo stante tutte queste difficoltà che pian piano sono state risolvute sono andate verso la risoluzione addirittura nei primi sei mesi c'è stato un problema di mancanza di prodotto c'è stata una tale richiesta di prodotto erano poche le aziende che producevano c'è stato un problema che mancavano i prodotti all'interno dei shop i risultati che il cannabis survey annuale ci porta sono che se il consumo è aumentato è aumentato di alcuni punti percentuali in particolare nei primi due anni post legalizzazione ma poi ha cominciato a ridiscendere questo si spiega da un lato con l'effetto verità ovvero io tutte queste statistiche sono fatte con sondaggi con questionari io ovviamente ammetto di consumare una sostanza che è illegale con un po' di difficoltà nel momento in cui è illegale mi è molto più facile dirlo anche per i sondaggi che vengono fatti in Italia per cui quei 6 milioni di consumatori probabilmente sono molti di più e dall'altro il classico effetto novità ovvero c'è la possibilità di andare a provare andiamo a provarla aumenta l'età media di primo consumo questo sia perché non aumentano i consumi negli adolescenti che anzi diminuiscono leggermente ma anche perché c'è un ritorno al consumo e una prova di consumo da parte dei 40 50 anni o quelli come me vecchio consumatore che finalmente può trovarla senza senza problemi e va a prenderla ovvero persone che decidono in usare ma un po' quello che succede in Italia con la cannabis light in cui la gran parte dei cioè il grosso dei consumatori che vanno nei nei nostri cannabis shop sono persone di mezza età che usano quella sostanza per rilassarsi la sera e combattere l'ansia della vita moderna come faceva un vecchio amaro non aumentano gli incidenti stradali anche se aumenta la aumenta le persone trovate alla guida sotto effetto di questo ci dice due cose la prima si spiega in due modi il primo che oggi si fanno in Canada molti più controlli rispetto alla cannabis che prima non si facevano per questo aumenta la prevalenza diciamo di positività dall'altro gli stessi sondaggi ci dicono che diminuiscono la propensione a commettere a comportarsi in modo rischioso ovvero ad esempio la percentuale di persone che ammettono di aver guidato dopo aver usato la sostanza diminuisce del 30-40% adesso non mi ricordo la percentuale usata questo grazie a politiche di informazione che dicono guarda che se consumi cannabis è meglio che non ti metti a guidare come da noi si dice guarda che se consumi alcol è meglio che non vai a guidare con la differenza che lo puoi fare in modo sereno e in modo trasparente ovvero dicendo non che la droga ti porterà la cannabis ti porterà a fare un incidente stradale ma dicendoti che sotto effetto di cannabis hai minore reattività eccetera eccetera è più difficile la valutazione rispetto per dire alle regolamentazioni negli Stati Uniti perché ogni Stato ha una sua legge e soprattutto ogni Stato balla con se stessa con se stesso è più interessante negli Stati Uniti vedere come diceva Frankie prima come pian piano per approssimazione si è arrivati a normative sempre più complete ovvero se nelle prime normative della questione della diversity ovvero della presenza di tutte le componenti etniche nel mercato o dell'equità sociale ovvero della anche del riportare le risorse alle comunità che più sono state colpite da war on drugs erano totalmente assenti per cui pensiamo a Colorado Oregon e tutti gli altri della stessa California come ad esempio non c'era fino neanche in California una norma che automaticamente cancellasse i reati pregressi per cannabis pian piano le varie leggi hanno implementato tanto da arrivare diciamo all'ultima importante che è quella di New York che prevede anche dei limiti sulle licenze in modo da evitare che ci sia una concentrazione anche a livello verticale produzione distribuzione vendita e favorendo quindi anche i piccoli coltivatori i piccoli produttori sull'Urguai i dati sono interessanti perché sono un po' lenti nel senso che ci hanno messo un po' a produrli ma anche lì si nota ad esempio come a dispetto di quello che sostiene l'INCB c'è un aumento della percezione del rischio per cui non c'è la famosa lo sdoganamento della sostanza e la la sua non solo normalizzazione ma anche non mi viene il termine banalizzazione così è stato definito ma è il contrario e questo succede anche in Canada non c'è un aumento vertigisonoso dei consumi anche lì anche in età scolare non aumentano i consumi di cannabis è ovvio che sono tutte normative che la più vecchia del 2013 ma è poi andata di fatto a regime nel 2017 per cui che hanno bisogno ancora di revisione la cosa devo dire abbastanza curiosa dell'ultimo rapporto degli INCB che settimana scorsa nel suo primo capitolo pubblicato tutta una serie di dati più o meno a casaccio su come non funzioni la regolamentazione della cannabis è che diciamo il motivo principale per cui non funziona è che la regolamentazione legale non avrebbe fatto diminuire il consumo che non è mai stato un obiettivo delle regolamentazioni legali che anzi diciamo in alcuni casi quelle americane in particolare invece essendo di forte impronta imprenditoriale economicista hanno se vogliamo un'altra impostazione ma fra l'altro come se mai il proibizionismo fosse riuscito a far diminuire i consumi se noi andiamo a prendere i consumi se noi avessimo le statistiche dei consumatori di droghe nel mondo nel 1961 cioè nel momento in cui vengono rese illegali alcune sostanze e quelle di oggi io ho come l'impressione che secondo me se non ci fossero state quelle convenzioni non avremmo avuto grossi problemi di tanto che l'unico dato che do che dal 98 al 2018 i consumatori di sostanze illegali nel mondo sono aumentati a ritmo doppio rispetto alla popolazione mondiale che è aumentata del 25% i consumatori di sostanze del 50% questo in un regime di fatto completamente proibitionista facciamo la domanda insomma io no finiamo ok si si ho provato l'occasione per imparare qualcosa visto che sono completamente in ritardo allora ho tre piccole cose la prima la ritengo meno importante però è la terza volta che vengo sento sempre la questione degli incidenti ora io la pubblicità ho avuto modo di sentirla più volte il libro bianco però non l'ho ancora letto tutto quindi può darsi che mi trovo un'applicazione però vorrei capire ma qual è il denominatore e qual è il numeratore e qual è il denominatore della vostra statistica posso benissimo non credere a quella pubblicità perché la cosa che mi mi lascia perplesso è che non è che ad ogni incidente si fa il test quindi come si fa questa statistica questo è uno poi le cose che più mi interessano sono queste è stato fatto un accenno che la legge giovanardi ha peggiorato le cose però appunto io ripeto sono un'esimolta che sono ignorante quindi la distribuzione è cambiata no? del ma prima come era e come adesso perché io ho dei dubbi perché pensavo che in base al momento che la stessa persona vendesse quello che era arrivato quello che aveva eccetera è sempre la stessa ma prima di giovanardi invece c'erano due reti diverse ecco poi c'era una terza domanda che però mi sono dimenticato non c'è tempo quindi non so è questione di età scusate ma avevo un terzo punto poi ce lo dici vabbè la questione dell'incidente stradale le statistiche ah visto appunto che il compagno amato ha bocciato il referendum no? ma la cannabis light come qual è il principio per cui in qualche modo è legale cioè su cosa ci si basa ed è possibile eventualmente applicare la stessa cosa alle altre droghe leggeri sì vabbè la cannabis light ha un principio di THC i principi attivi della cannabis fondamentalmente sono due anche se ce n'è poi tanti altri però quelli più conosciuti sono il cannabiniolo e il tetraidrocannabinolo quindi la cannabis light ha una percentuale di THC quindi tetraidrocannabinolo che è inferiore allo 0.5% e si basa esclusivamente sulle percentuali di CBD quindi ha praticamente un impatto a livello anche di quello che volgarmente viene chiamato sballo che è quasi nullo il CBD è un mio rilassante quindi vuol dire che rilassa di fatto i muscoli ed è un modulatore del THC quindi cosa vuol dire che ha un effetto nel momento in cui c'è del THC perché riesce a modularlo e quindi abbassandone l'intensità e aumentandone la durata quindi quello è l'effetto nel momento in cui non c'è THC o il THC è ridotto al minimo sotto lo 0.5% il principio diciamo che produce l'effetto ricercato è minimo quindi di fatto non quella erba lì non sballa lo dico in termini proprio chiaro perché penso che lei abbia sentito come al solito che questo governo ne trova sempre una nuova che vuole abolire la cannabis light e lei giustamente si chiede ma quindi è come la cannabis diciamo quella che ha invece THC superiore è come se domani qualcuno chiedesse di abolire la birra analcolica esatto la stessa cosa no il CBD non è presente nelle liste nemmeno nelle tabelle della legge italiana anzi l'OMS nelle sue raccomandazioni che il 2020 sono state discusse a Vienna aveva anche chiesto di inserire una clausola all'interno delle tabelle un masterisco una nota all'interno della tabella in cui si diceva che i preparati a base di CBD con una presenza di THC inferiore al 0,2% sono escluse dalle convenzioni questo perché nella revisione scientifica fatta dall'OMS ha dimostrato che ha preso atto che il CBD non ha effetti psicoattivi per cui non ha senso che sia considerata fra le sostanze rispondo io sui sui incidenti allora i numeratori sono gli stessi solo che quello spot mette insieme cose diverse allora gli incidenti con feriti che hanno visto contestare l'articolo 187 del codice della strada ovvero guida sotto effetto dei stupefacenti nel 2021 direi perché no 3,4 le statistiche sono complicate lo attesta l'ISTAT perché ci sono i carabinieri che hanno le loro statistiche le polizie che hanno le loro statistiche le polizie locali che hanno ognuna le proprie statistiche però il totale è il 3,4 l'alcol ci aggiunge un 7-8% adesso non mi ricordo per cui diciamo l'11-12% degli incidenti stradali sono stati diciamo non poi anche qui provocati hanno visto coinvolto una persona che aveva consumato o alcol o sostanze illecite l'89% di incidenti questa contestazione non è avvenuta per cui il 90% degli incidenti è stato provocato da persone sobrie il test è vero che non viene effettuato sempre ma viene effettuato nel momento in cui c'è diciamo un sospetto di i carabinieri sono particolarmente doviziosi in questi test perché per un singolo incidente con due veicoli coinvolti a volte si trovano quattro test antidroga perché non lo fanno solo ai conducenti ma lo fanno a tutti quelli che erano presenti nel veicolo per cui anche lì ci sarebbe da vedere quanto quelle statistiche siano veritiere perché può essere che in quell'incidente fosse coinvolto anche una persona che non era alla guida e tutte in particolare per la cannabis tutti quei test scontano il fatto che i metaboliti della cannabis durano nel sangue e nelle urine anche per una due tre quattro settimane pur non essendo persone in quel momento sotto effetto di ovvero ci possono essere molti casi in cui è stato contestato un articolo 187 per cui guida sotto effetto di stupefacenzi senza che la persona avesse in effetti consumato questo e lo diciamo sempre non vuol dire che si debba o si possa guidare sotto effetto di significa che però probabilmente più che una campagna che mette insieme il numero assoluto degli incidenti in cui sono state trovate delle persone che dei guidatori che avevano in teoria usato stupefacenti e che il 90% degli incidenti sono evitabili ovvero causati da distrazione perché quello è il vero dato è velocità uno confonde pensando che quei 5800 e passa incidenti siano il 90% degli incidenti evitabili invece gli incidenti in Italia sono 200.000 all'anno ci sono incidenti con feriti no ma i testati i testati i testati senza incidenti per cui i testati generalmente dai test antidroga fatti dai carabinieri alla polizia fanno fatica ad arrivare all'1% cioè su milioni di test milioni di test stiamo parlando di milioni di test le contestazioni per articolo 187 sono l'uno virgola non relative incidenti ma nei test che vengono fatti all'uscita dalle discoteche per intenderci sì poi una cosa sola esistono poi dei test che fanno anche in America per esempio che vanno a indagare i riflessi lo stato psicofisico della persona che guida indipendentemente da quello che ha usato sono molto più realistici del non inferire da un misuratore il fatto anche lo 0,5 sull'alcol vuole dire tutto e nulla perché una persona che non è abituata a bere con 0,5 magari non ce la fa guidare una persona che beve tutti i giorni con 0,5 riesce insomma quindi anche lì andrebbero usati forse dei test io la contesterei però che mi sa in modo di fare purtroppo io mi ero appassionato di dicere in qualche modo con la droga con la dire di di la cosa la contesterei in un modo un po' più puntuale fornendo tutti i dati perché estrapolazioni ce ne vogliono io qualche anno fa mi sono appassionato su una cosa che è molto più dibattuta che il problema di questa sera del PIL se cresce non cresce eccetera eccetera mi sono divertito si fa per dire mi sono incazzato a vedere visto che l'Europa ci ha chiesto come si che bisogna aggiungere il PIL dell'attività illegale questo c'è il chiesto l'Europa perché ognuno deve contribuire in base al PIL allora dovete considerare anche il PIL dell'attività illegale e mi sono divertito a trovare come l'avevamo fatto adesso non so se negli ultimi anni è cambiato ma era una cosa completamente ridicola eppure mettono un 0,8 0,6 di PIL dovuto di attività illegale ad esempio per quanto riguarda la prostituzione hanno preso assieme una roba di un'associazione di consumatori su quanto costavano andare a prostitute in casa o sul marciapiede e poi hanno messo assieme una statistica un'indagine del non mi viene in questo momento Donciotti cioè del gruppo Abeli sul numero delle persone che 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 si prostituiscono e da queste due cose qui fatte per motivi diversi con scopi diversi eccetera eccetera sono riusciti insomma a definire quanto la prostituzione contribuisce al nostro PIL per cui ogni tanto quando la variazione è 0,2 0,3 insomma basterebbe insomma invitare la gente insomma andare a cosa oppure la doppiare comunque direi il mio consiglio è non so di fare una cosa più puntuale sul discorso degli incidenti grazie mi fanno segno dalla regia che ci staccano e quindi niente ringrazio tutti per l'incontro grazie Leo grazie a Frenti e grazie per essere venuti vi hanno dato i soldi vieni sul palco non sia mai ma niente volevo soltanto dire che venerdì 31 marzo qui all'Unione Culturale in occasione anche di un incontro di una rete europea che raccoglie tutte le organizzazioni che intervengono con interventi di riduzione del danno e limitazione dei rischi nei contesti del divertimento ci sarà la presentazione di un documentario dei colleghi francesi di Tecno Plus che è un'associazione che da 25 anni fa riduzione del danno all'interno dei free party e quindi insomma cogliamo l'occasione che sono qua a Torino per presentare il loro docufilm che racconta la loro storia e magari può essere una buona occasione anche per riflettere sul tema dei free party che adesso sembra essere uno tra i nemici numero uno del nostro Stato dove insomma c'è dei ragazzi che si radunano per ballare divertirsi peraltro senza disturbare nessuno sembra essere insomma stando sul proibizionismo una delle peggio cose che potessero succedere una delle cose più da reprimere loro in Francia hanno avuto una cosa simile perché dal 2001 che hanno la legge Mariani che anche ha proibito in maniera severa i free party ma i free party sono continuati lo stesso quindi può essere un'occasione per riflettere appunto sui danni forse che più fa il proibizionismo piuttosto che insomma lo stoppare determinati fenomeni 31 marzo no più tardi perché party setting ho l'aperitivo ovviamente tra l'altro ci sarà anche un aperitivo perché sarà anche il social event del meeting di questa rete europea e sarà dalle 20 alle 22 web di questa rete di questa rete